Ciao a tutti! Oggi prepareremo il plum cake mascarpone e fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mascarpone, zucchero, uova, farina di tipo doppio zero, olio di semi di girasole, lievito per dolci, vanillina, scorza di mezzo limone, sale, fragole e per decorare zucchero a velo, limoncello, succo di limone e fragole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza del limone. e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Li uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il mascarpone ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso le uova. le facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo l'olio ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la farina, la vanillina, il pizzico di sale e il lievito. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da plum cake di 24 cm ben imburrato. Adesso posizioniamo le fragole. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti. Fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero a velo, il limoncello e il succo di limone. ed alzioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. La glassa è pronta, versiamola sul plum cake e decoriamo con le fragole messe da parte. L'un cake al mascarpone e fragole, grazie e alla prossima ricetta. L'un cake al mascarpone e fragole, grazie e alla prossima ricetta. L'un cake al mascarpone e fragole, grazie a tutti. Grazie.